Carlo Calenda continua a parlare mosso dall'odio per gli avversari politici. Ma adesso l'ex ministro dello sviluppo economico ha fatto un salto di qualità. Non mette più solo nel mirino i leader avversari. Ora insulta anche chi non sceglie di votare il centrino di azione. Infatti anche oggi ha riservato la sua quotidiana dose di livore a Matteo Salvini e agli elettori della Lega. La fondo è di quelli che i pesanti che sfiorano l'insulto, la quantità di cretinate che sta dicendo Salvini in questa campagna elettorale. Se qualcuno ancora lo vota credendogli ha dei problemi. Parole di fuoco, quelle dette a Metropolis, che sottolineano quanto Calenda sia preoccupato di un disastro imminente dalle parti del terzo polo. Il suo odio per il centro-destra non ha freni. Se si comparano i programmi di Fratoianni e Bonelli con quello di Slavini e Meloni ci si accorge che sono molto simili. La destra di oggi è una destra che si fonda sul fate come volete. Quindi, il caos. Poi parla di Stefania Modestino, la capolista che ha posizioni Filo Putin. Fuori dalle liste, nemmeno per sogno, l'ha confermata. Nel territorio la nostra candidata fa un sacco di cose sociali, ed è stata proposta dal territorio. Non abbiamo controllato i social. La signora ormai resta in lista. Non si occuperà di politica estera. Insomma la pulizia delle liste vale solo per gli altri. Calenda i suoi se li tiene. E agli insulti di Calenda, dalla Lega risponde Igor Riezzi. Calenda si fa promotore del terzo polo, ma di moderato ormai ha ben poco. Quando si tratta di attaccare Salvini dimostra la sua vera natura e arriva perfino ad offendere gravemente gli elettori della Lega. Al leader di azione la democrazia piace solo quando gli fa comodo? Dovrebbe come minimo chiedere scusa. Del resto è abituato a contraddirsi e fare passi indietro. Del resto è abituato a contraddirsi e fare passi indietro.